Allora, salva a tutti, siamo qua alla nuova puntata di Tozzi Paleo Lab, parleremo di paste alternative con Vanessa Fanfoni, laureata in scienze dell'alimentazione. Ciao Vanessa, allora... Ciao Claudio, grazie per l'invito. Sono molto contento di averti qua perché voglio parlare di questo tipo di approccio diverso all'alimentazione, cioè le paste diverse da quelle di grano, no? Ma innanzitutto, beh, facciamo una premessa, perché uno dovrebbe mangiare una pasta che non è di grano? Domanda del secolo, eh? Domanda del secolo. Allora, sicuramente questo tipo di pasta è una pasta diversa, una pasta alternativa, una pasta che non esiste praticamente da nessuna parte, nel senso che noi ci siamo inventati la prima pasta di platano al mondo, 100% platano. È una pasta che è esclusivamente costituita da farina di platano verde e acqua, nient'altro. Non ci sono leganti, questa è la cosa che voglio sottolineare, perché magari esistono altre tipologie di pasta di platano, ma tutte hanno un qualcosa di pro-infiammatorio, magari, come possono appunto essere dei leganti. Noi invece ci teniamo a mantenere praticamente questa materia prima, diciamo, così proprio come si presenta, nel senso non vogliamo aggiungere qualcosa che possa creare, diciamo, un problema di qualsiasi tipo a livello salutistico per le persone a cui ci rivolgiamo, ecco. In particolare, vorrei fare, diciamo, una piccola parentesi sulla farina di platano, perché la farina di platano è un prodotto che ha tantissime caratteristiche, per l'appunto, positive per la salute. A proposito, che è il platano? Il platano, allora, in effetti, domanda interessante, perché in Italia non è conosciutissimo. In effetti, quando si parla di platano, spesso ci chiedono se è la pianta. No. No, il platano si la... Esatto, parliamo di un frutto che proviene dalla stessa famiglia delle banane, ma che ha delle caratteristiche molto interessanti, perché a differenza della banana è un frutto che si mangia esclusivamente cotto. Questo perché è un prodotto non maturo. Che cosa vuol dire questo? Mentre la banana è ricca di zuccheri, il platano è invece un prodotto in cui gli zuccheri ancora non si sono formati. Cosa fondamentale, infatti, il platano è ricco di amidi resistenti. Che cosa sono gli amidi resistenti? Noi siamo abituati a pensare agli amidi come a un qualcosa, diciamo, appartenente alla classe glucidica, che viene scissa dal nostro organismo, dagli enzimi che fanno parte del nostro organismo, in molecole di glucosio, che vanno nel sangue, aumentano quindi, in alcuni casi, l'indice glicemico. Ecco, l'amido resistente è invece un amido che non viene scisso dai nostri enzimi. Non è digeribile? Non è digeribile, arriva praticamente, così com'è, nel tratto gastrointestinale, in particolare presso il nostro microbiota intestinale. Altro punto che magari è necessario che io spieghi, perché il microbiota intestinale è praticamente una comunità microbica che noi abbiamo naturalmente nel nostro organismo, che si occupa in generale di noi, della nostra salute. In che modo? Produce acidi grassi a catena corta, come il butirrato, importantissimo come antinfiammatorio. produce vitamine, eccetera. Che cosa succede? Questo amido resistente arriva fino al microbiota intestinale e funge da fibra solubile. Quindi fa in modo che sia substrato per questi microorganismi e possa essere da loro utilizzati. Quindi, di conseguenza, questa pasta può essere praticamente utilizzata anche da chi ha problemi di glicemia alta, quindi a diabetici. Fondamentale questo, naturalmente, da sottolineare. Ma non solo, perché poi questa pasta, in realtà, può essere, poiché è ricca di vitamina C e di vitamine del gruppo B, quindi, importante anche per il sistema immunitario, o ancora, controlla i livelli di grasso, quindi abbassa l'assorbimento di grasso, aumenta i livelli di HDL, che è il cosiddetto colesterolo buono, e protegge anche a livello cardiocircolatorio, quindi abbassa anche la possibilità di avere ictus o infarti. Quindi, in generale, ha tantissimi effetti benefici per la salute. Naturalmente, la pasta, così come anche la farina di platano, da cui proviene. Beh, veramente molto interessante, anche perché, in realtà, la pasta di grano, che è enormemente più diffusa, non credo che abbia questo elenco di benefici. E questo è il punto focale di questa puntata, no? Cercare di far capire che la pasta tradizionale, generalmente di grano, esistono anche quelle di maes o altro di riso, in realtà non hanno queste caratteristiche legate, per esempio, al diabete e alla salute, no? E allora ho detto, vabbè, ma qualcuno diceva, ma perché bisognerebbe prendere queste che magari hanno un costo più elevato? Cosa rispondi, Vanessa, su questo? Perché è la prima cosa che ci dicono ogni volta, se noi parliamo di questa alternativa. Allora, altra cosa importante che vorrei dire rispetto a questo, il platano è naturalmente senza glutine. Tra l'altro. Tra l'altro. Quindi sicuramente è un tipo di pasta che a 360 gradi risponde alle esigenze di chiunque volesse appunto avere comunque, mangiare comunque pasta, nonostante magari per problemi di qualsiasi tipo non dovesse poter appunto mangiare quelle che sono le paste tradizionali, no? Celiaci, diabete, no? Assolutamente, quindi diciamo rispondere un po' ai bisogni di tutti, no? Chiunque ha, purtroppo ad oggi, chiunque spero di no, magari la maggior parte di noi ha dei problemi legati appunto ad intolleranze di qualsiasi tipo, invece questo tipo di pasta, ad esempio, oltre a prendersi cura di noi, curando tra virgolette delle parti che non vanno bene, in realtà è un aiuto anche per sentirci semplicemente meglio. Quindi anche per chi non ha assolutamente problemi, se vuole inserire all'interno della propria alimentazione un tipo di prodotto che per l'appunto è pasta o comunque un qualcosa che ricorda anche nei formati, in questo caso abbiamo caserecce e gnocchetti, la pasta così come la conosciamo può tranquillamente utilizzare questa tipologia. Beh, fantastico, perché tra l'altro, io volevo dire una cosa, io l'ho provata questa pasta ed è buonissima, cioè calcolate che io sto in palo diet dal 1998-99 e ovviamente non ho più toccato la pasta da quel dì, no? E in realtà io sono italiano come un altro, quindi in realtà mi piace, però la mangio per questione del mio stile di vita. Quando mi è capitata questa pasta e l'ho mangiata col sugo di carne, vale ovviamente, vi posso assicurare che è uguale, io non ho sentito nessuna differenza con quella normale e quella normale, ve lo dico io, dà un sacco di problemi. Il grano non è un cereale che il corpo umano sopporta benissimo, è come una specie di veleno progressivo che tu mangi, non è che ti ammazza subito ma piano piano ti avvelena. Il platano è semplicemente un tipo di banane, basta, cioè non è che è un frutto, è atossico, è perfettamente paleo. Il grano è stato utilizzato da 12 mila anni fa semplicemente perché era, diciamo, non dico nemmeno facile da coltivare, perché è difficile coltivare, invece il platano semplicemente si coglie e basta. Il platano è un tesoro dell'America Latina che ci dona così... Esatto, senza coltivare niente, cioè sta lì e basta. Esatto, esatto, quindi ecco la genuinità è la chiave un po' di tutto, cioè di quelli che sono i nostri prodotti. Noi prendiamo praticamente in natura qualcosa che nasce e sfama così naturalmente e facciamo in modo che possa essere utilizzabile sotto forme diverse, magari senza andare ad aggiungere chissà che cosa, mantenendo quella naturalità che gli compete. Questo è veramente fondamentale. Il fatto del costo superiore, io vorrei spezzare una lancia, è vero che costa un po' di più delle paste normali, però bisogna chiarire questo che se qualunque cosa nuova che viene sul mercato mediamente costa di più, è ovvio, no? Ma se uno può provare questa cosa, magari prova e vi assicuro che è buonissimo, ovviamente con l'aumento del numero degli acquirenti piano piano anche il prezzo tende a abbassarsi, come qualunque cosa in commercio, no? Quindi è inutile dire, ah ma perché costa troppo, avrisco quella di grano. Ma quella di grano può essere dannosa per molte persone. Cioè secondo me, come diceva bene Vanessa, è una questione anche di prevenzione, di ricerca di se stessi, della salute, dello stile di vita. Continueremo fra qualche secondo dopo a Tozzi Palo Lab. Voglio presentarti una grande novità, la pasta di platano. La prima pasta di platano al mondo, certificata gluten free e lavorata in purezza, senza ricorrere ad alcun legante o additivo. Due soli ingredienti, farina di platano verde ed acqua. No aggreganti, no conservanti, no additivi. La pasta di platano. Acquistala su geopaleodietshop.com Allora, bentornati a Tozzi Palo Lab. Oggi si parla di pasta alternative, in particolare del platano, pasta di platano. Siamo qua con Vanessa e la cosa che interessa molto le persone a cui abbiamo contattato, che abbiamo fatto dei post su Facebook e ci hanno chiesto di questa pasta di platano è la certificazione legata alla sostenibilità, al fatto dell'inquinamento oppure del fatto dei pesticidi. Cosa mi puoi dire in questo senso? Certo. Allora, guarda, intanto ti dico che il platano e anche la farina di platano, perché inizialmente era autoprodotta, poi c'è stato una, per fortuna, un aumento delle richieste, dei volumi e quindi di conseguenza ci siamo dovuti affidare direttamente a dei produttori locali. Quindi è stato fatto proprio un viaggio in Ecuador, lì dove eventualmente c'era da capire un attimo a chi affidarsi. Quindi cercavamo naturalmente grande qualità. L'abbiamo trovata in un produttore, quindi di platano e anche di farina di platano, della parte nord, quindi El Carmen. Faccio questa, sottolineo questa cosa, perché è importante fare una distinzione tra il nord e il sud dell'Equador, mentre nella parte sud abbiamo una maggiore industrializzazione. Nella parte nord, invece, fortunatamente ci sono proprio delle comunità locali che lavorano per l'appunto il platano. Abbiamo deciso naturalmente di fare affidamento a questa parte qui e quindi in qualche modo dare anche un aiuto per quanto possibile a questi locals. e a tal proposito abbiamo scelto un produttore che produceva farina di platano allo stesso identico modo utilizzato da noi in autoproduzione. Quindi sceglieva naturalmente, sì, dei platani verdi, quindi non maturi, che contenessero tutti i benefici di cui naturalmente ho parlato e naturalmente solo la polpa senza scarti, bucce e quant'altro. Un'esticazione lenta a temperatura controllata, quindi tutte cose che richiamavano la nostra produzione. E naturalmente anche nel momento in cui si parlava di certificazioni e quindi di controlli a livello proprio di come venivano coltivati questi platani e quindi anche poi il trattamento per creare farina di platano, ci hanno mandato naturalmente tutte le certificazioni. Sono comunque dei coltivatori e dei produttori che ci tengono alla naturalità. Quindi nel momento in cui ci hanno inviato questi indici e queste prove di laboratorio era tutto totalmente conforme alle norme italiane. Quindi assolutamente siamo tranquilli del fatto che siano veramente genuini al 100%. Ma questo ci conforta tantissimo, Vanessa. È giusto che qualcuno faccia queste domande, io non ho nessun dubbio su questo, ma vorrei chiarire molte volte però le stesse persone che fanno questi quesiti poi magari prendono la pasta col grano caratese, col glifosato e con altri pesticidi e non chiedono mai certificazione. Quindi è un po' un'ipocrisia secondo me questa. E credo che un albero di banane o di platene che sia sia molto naturale di un grano trattato in maniera industriale che passa i mesi sopra una nave tipo petroliera che viene dal Canada. Credo, credo. Non voglio fare polemiche ma invece le voglio fare. Senti, ma ti faccio una domanda un po' bizzarra. Ma se il platano potrebbe essere coltivato in Italia, tipo sud Italia, non ci sono le condizioni climatiche? C'è stato un tentativo lì dove comunque le temperature potessero in qualche modo non è possibile, ci si è riusciti un po', serve veramente anche tanto spazio paradossalmente si tratta di alberi comunque che hanno bisogno di una grande area di coltivazione quindi al momento non siamo ancora totalmente pronti, diciamo. Quindi ci affidiamo appunto direttamente a chi ha fatto del platano praticamente il suo tesoro per tanti anni, appunto le popolazioni dell'America Latina. No, ottima, ottima. No, è una curiosità perché alcune cose sono state sempre, diciamo, provate in Sicilia. Esatto. Però non sempre. Altri prodotti poi sono riusciti negli ultimi tempi ad essere. Vedremo, vedremo. Vedremo un po', ecco, per risparmiare il trasporto magari. Allora, per quanto riguarda sempre il discorso del platano, che ci si fa con la farina di platano praticamente? Che tipi di... Sì, allora... Di tutto, dici? Non so, anche piadine per esempio. Assolutamente, assolutamente sì, anzi una cosa che consiglio sono i pancake perché la farina di platano è veramente... Allora, intanto è versatilissima perché è neutra, quindi di conseguenza sia la possibilità di trasformazione in prodotti salati ma anche in prodotti dolci, quindi si può utilizzare in entrambi i modi e per quanto riguarda anche crostatine tipo tartellette, quindi anche in quel caso si comporta benissimo, può essere utilizzata anche come addensante in realtà in degli shake, certo, in delle zuppe, quindi no, è utilizzata veramente in tantissimi modi, diciamo in generale. Eccezionale, non pensavo che fosse così anche come aggregante, diciamo, ecco. Esatto, sì sì. Ma comunque voi siete riusciti a fare una cosa che non ho mai visto, cioè di fare farina, cioè pasta solo di platano, invece gli altri c'hanno comunque delle uova, la farina di tiappeocca e altro, questo è un'ottima cosa. Ma come posso dire, lo sviluppo della pasta di platano, lo vedete in crescita oppure in Italia per via della tradizione italiana, la pasta dieta mediterranea, la pasta migliore oppure non ce la facciamo, qual è l'idea? Allora noi siamo ottimisti perché in realtà vediamo noi stessi che comunque viene richiesta e comincia ad esserci la nascita del bisogno, no, della richiesta, che poi è quello, nel momento in cui il cliente, la persona comunque in generale si accorge di quelli che sono i benefici, si accorge anche di quanto è buona, perché soffermiamoci anche su questa parte perché comunque è un prodotto che viene utilizzato, diciamo, con l'aggiunta di qualsiasi tipo di condimento. Poi io naturalmente ho parlato di tanti benefici che possono essere incrementati, quindi se è una pasta che già di per sé è ricca in fibre, in amidi resistenti che appunto possono essere considerate fibre solubili, nel momento in cui andiamo a condirla possiamo aumentare, diciamo, in qualche modo questo beneficio andando ad utilizzare comunque dei condimenti di quel tipo lì, ma veramente ci si può fare di tutto, cioè qualsiasi tipologia, è un po' come dicevi tu Claudio, che comunque l'hai provata e ti è piaciuta come se poi a gusto sembrasse una pasta tradizionale, no? Come una qualsiasi pasta tradizionale possiamo utilizzarla veramente in qualsiasi modo. Ma guarda Vanessa, voi avete fatto i pacchetti da 280, no? Io la prima volta l'ho fatto tutto e 280 e francamente ho finito la pentola. Non riesco a fermarmi proprio. Che poi come ti è sembrato? Pesante? Ma che pesante, no? Eccezionale. Ma ricordiamo una cosa Vanessa, qui per carità il gusto, siamo italiani, io sono italiano, tu sei italiano, ci piace il gusto, non c'è dubbio, però qui in Italia sono 3 milioni e 200 mila diabetici, o no? Esatto, quindi insomma... Ricordiamo appunto quella che è uno dei benefici praticamente principali. Quindi un diabetico mediamente la pasta è i soliti 80 grammi, no? A volte no. Invece qui col platano possono andare addirittura tranquille per il contenuto di fibra, diamito resistente e soprattutto penso di picco glicemico. Assolutamente, poi è fondamentale appunto anche lì utilizzare un condimento comunque sempre sotto consiglio di chi segue queste persone, naturalmente che in qualche modo mantengano il carico glicemico basso, quindi poi bisogna vedere un po' nel complesso, però è sicuramente un grande alleato. No, è incredibile comunque che adesso io non voglio, lo so benissimo che comunque in Italia l'industria della pasta normale è un pilastro della nostra economia, tutto quello che volete voi, però ha un picco glicemico molto alto, molte volte può dare diabete, può dare, contiene glutine, quindi insomma io credo che la creazione di una pasta alternativa come la vostra di platano, credo che sia importante. Tra l'altro ecco anche la farina può essere utilizzata in un menù giornaliero che può essere molto vario e tra l'altro molto buono. Anche perché in particolare fare dei prodotti in casa che possono essere delle torte è sempre una cosa rispetto a quello che... delle prove, quindi si è visto che in realtà si comporta molto bene, magari è possibile anche eventualmente fare una percentuale di farina di platano e magari un'altra percentuale di un'altra farina, magari mantenendo sempre alcuni benefici che sono quelli dell'essenza glutine ad esempio, quindi anche per... Per esempio in paleo si utilizza o la farina di mandorle o la farina di cocco per esempio, o di castagne. Ok, non è stato fatto ancora, quindi ti invito... Allora io vengo... A provare... Io fai dolci paleo, mi piacciono molto, anche se in realtà vogliamo dire la verità, nella paleo non si dovrebbero fare nemmeno dolci paleo perché comunque hanno un piccolo lucemico anche elevato, però ogni tanto su, si può fare anche per i bambini magari, no? Ma dipende perché poi gli sfizi diciamo di un giorno a settimana, no? Ma si può fare, si può fare, di questo materiale qua sicuramente si... Allora, ragazzi, continuiamo dopo qui su Tozzi Paleo Lab. Voglio presentarti una grande novità, la pasta di platano. La prima pasta di platano al mondo, certificata gluten free e lavorata in purezza, senza ricorrere ad alcun legante o additivo. Due soli ingredienti, farina di platano verde ed acqua, no aggreganti, no conservanti, no additivi. La pasta di platano, acquistala su geopaleodietshop.com Ok, bentornati a Tozzi Paleo Lab, siamo qua con Vanessa, laureata a Scienza Alimentazione per parlare di pasta alternative, in particolare della pasta di platano. Allora, quello che ti volevo chiedere Vanessa, anzi dire in questo senso, che c'è una versione della Palo Diet, che si chiama Palo Diet Autoimmune, ed è riferita soprattutto alle persone che hanno problemi di reazione autoimmune, come artrite reumatoide, psoriasi, sclerosi multiple, eccetera. Ebbene, una delle sostanze che è proibita a queste persone è l'uovo. Quindi, uno dei vantaggi della pasta di platano, che tutti hanno l'uovo per via del fatto elegante, è che questo tipo di platano non ha niente, ha soltanto 100% platano. Quindi è un ulteriore vantaggio per chi sta in Palo e soprattutto in Palo hype. L'altra cosa che ti volevo chiedere, che è molto importante prima, è qual è lo sviluppo futuro del platano? Cioè, avete intenzione di fare altri prodotti a base di platano? Sì, allora, noi intanto abbiamo questa linea, che è appunto una linea healthy, una linea che attualmente appunto ha la farina di platano verde e la pasta di platano. Naturalmente noi vogliamo far sì che la farina di platano possa essere un po' la matrice, quindi la materia prima di base per ulteriori sviluppi in campo proprio di prodotti anche da forno eventualmente. Mi viene in mente questo perché comunque ci chiedono tanto, appunto, insieme alla pasta anche eventuali sviluppi nel campo del grissini, cracker o anche addirittura il pane. Quindi stiamo facendo dei test proprio per vedere se il pane, mantenendo comunque, come hai detto tu, cercando di evitare l'inserimento di alcuni ingredienti pro-infiammatori, eventualmente come può essere l'uovo per alcune esigenze, cerchiamo sempre di mantenerci in modo, diciamo, un po' più, ecco, farina di platano e pochissimi altri ingredienti che possano. Bene e meglio, insomma. Esatto, cioè cerchiamo di non aggiungere, anzi, lo vediamo con la pasta, abbiamo fatto proprio, non abbiamo aggiunto assolutamente nulla se non l'acqua. Quindi sì, diciamo che ci sono degli sviluppi, quindi oltre ai prodotti da forno, anche biscotti. No, biscotti. Perché il biscotto, ad esempio, so di tante persone con cui magari ho parlato io personalmente che hanno problemi appunto di glicemia alta, comunque diabetici, che quando si parla di biscotti poverini spesso mi dicono che loro non ne mangiano, non ne mangiano perché hanno veramente tante difficoltà nel trovare dei prodotti che possano andar bene. Quindi, dico personalmente, un mio obiettivo quasi principale è quello di dare loro un'alternativa. Quindi cercare in qualche modo di utilizzare degli ingredienti che possano tutti rispettare, ecco, un mantenimento della glicemia bassa, utilizzando naturalmente come ingrediente principale la farina di platano. E quindi speriamo bene, speriamo di tornare qui magari a parlare dei biscotti della farina di platano. Come no? Basta che non mi mettete cose in un paleo che poi io mi arrabbio. Faremo il possibile. Chiamatemi prima. Chiamatemi prima. Calcolate che siamo un paese di diabetici. A me mi fa ride quando vedo le trasmissioni sulla dieta mediterranea migliore del mondo, dell'universo, dello spazio, no? E poi in aumento esponenziale di tumori, di malattie infettive, di infarti, di ictus, di diabete. Ma come la migliore dieta del mondo e poi siamo sempre peggio. Io credo che il vostro lavoro è quello di portare un po' più di benessere e salute nelle persone. Una cosa che non abbiamo detto, Vanessa, ma secondo te perché, lo so che è una provocazione, ma perché non si dovrebbe mangiare la pasta di grano? Allora, io penso che l'Italia in generale sia pronta anche ad inserire qualcosa di nuovo magari nella propria alimentazione. Quindi io non sono qui per dire cosa si può o non si può mangiare. Però, allo stesso tempo, credo che sia giusta anche un'apertura, una possibilità che si possa dare a questi prodotti. Perché sono prodotti che comunque... Cioè, noi cerchiamo sempre, anche a livello scientifico, perché la comunità scientifica comunque, grazie alla ricerca, porta sempre alla luce continui benefici e continue scoperte che possono aiutarci ad avere poi su un mercato dei prodotti del genere. Quindi, basandoci proprio sulla ricerca, cerchiamo di aprirci un po' a queste novità. Perché magari possiamo scoprire dei prodotti che in realtà possono andare a sostituire completamente magari le cose a cui siamo abituati. Magari è solo abitudine, invece possiamo veramente trovare grandi benefici, sia a livello salutistico, ma anche a livello di gusto. Insomma, usciamo dalla zona comfort di età medierranea. Non siamo veramente più, dai. In generale cerchiamo di rimanere aperti un po' a tutto quello che riusciamo a creare di nuovo, perché a volte il nuovo spaventa, però poi diventa anche bello da vivere e da scoprire. Benissimo. Allora, guarda, Vanessa, sei stata fantastica. Grazie. Hai detto veramente, assolutamente, delle informazioni molto interessanti. Tu sai benissimo quanto per me sia importante la salute delle persone che mi seguono, del lavoro che faccio con la Giovalo Diet. Questo è stato un contributo fondamentale, perché semplicemente ogni giorno si può mangiare pasta di platano e altro, e stare meglio rispetto a una pasta che può essere invece problematica come quella normale. Grazie ancora, Vanessa. Grazie a te. Ci vediamo alla prossima per la prossima puntata di Tozzi Paleo Lab. Grazie a tutti. Grazie a tutti.